qua carica l'elicottero perché di là è più vicino eccolo lì ma fa poco con quella farina lì l'elicottero carica due o tre pochi metri cubi d'acqua dopo l'elicottero qua c'è il canadaro e questo fa rumore a 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 all bear Grazie a tutti.